Buongiorno da Novara, tifosi e rosa nero. Alle mie spalle i due simboli della città piemontese, alla mia destra la Basilica di San Gaudenzio, mentre alla mia sinistra il Duomo di Novara, entrambe opere di Alessandro Antonelli, per intenderci l'autore della Mole Antonelliana, anche di Torino. È il giorno della verità e della mattina della lunga attesa per il Palermo, impegnato questo pomeriggio proprio contro la formazione piemontese. Un risultato positivo riporterebbe il Palermo in Serie A. Ottenendo un successo, i rosa nero avrebbero anche la matematica certezza di aver vinto il campionato. Davanti alla squadra di Iachini, che ha coinvolto per la trasferta all'intero gruppo, ci sarà un Novara però agguerrito. La formazione azzurra vuole togliersi da una posizione difficile di classifica e non potrà contare sullo squalificato pesce, un'assenza importante per Aglietti. Calcio d'inizio alle ore 15, naturalmente su palermocalcio.it tutti gli aggiornamenti live dal Silvio Piola di Novara.